ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video questo è un video sulla su una ricostruzione che ho fatto ad una mia cliente e lei ha scelto questo bellissimo colore che si chiama unic di passioni unghie che è un prugnato diciamo insomma un violaceo molto molto bello come vedete sto applicando la prima passata poi andrò ad applicare la seconda passata poi lei ha scelto di applicare su tutte le unghie una borchetta a forma di triangolino molto carina e infine andrò ad utilizzare i lucidi ultra gloss sempre di passioni unghie con l'olio cuticole io vi lascio il video spero che vi piacerà se sarà così metterete un pollice in su io vi mando un grande bacio e se volete mi potete anche commentare di cosa ne pensate di questa ricostruzione di questo colore insomma di questa nail art e niente ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao